Il pretesto sacrosanto è quello del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma l'ufficio di presidenza, riunitosi oggi per esaminare la richiesta riposidata tra i consiglieri comunali del PD, prende tempo sulla convocazione del Consiglio sulla crisi. Per la presidente Katia Di Marzio e il vicepresidente Fabio Ranalli, che aveva firmato la richiesta assieme a altri due consiglieri del PD, e la consigliere Elisabetta Bianchi, che voleva firmare la stessa richiesta per poi fare marcia indietro, bisogna convocare l'unico consiglio per affrontare crisi e debiti fuori bilancio, la cui urgenza è stata ribadita questa mattina dal segretario comunale Nunzia Buccilli. L'ufficio di presidenza è stato quindi informato dell'esistenza di proposte di liberazioni urgenti, afferenti debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi, poiché ogni ulteriore ritardo nel pagamento di detti debiti comporta l'aggravio di interessi, spese e competenze legali nell'interesse superiore del comune di Sulmona, si legge in una nota. L'ufficio di presidenza ha stabilito di sospendere la seduta per consentire al presidente della commissione bilancio, Andrea Munno, di convocare la necessaria e propedeutica commissione bilancio di approvazione delle proposte di delibera da portare in consiglio. Ravvisata quindi la sussistenza dei requisiti di urgenza previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, si è ritenuto di andare a trattare, in un'unica seduta consigliare, entrambi gli argomenti al fine di evitare maggiori impegni di spesa all'ente, non che i debiti fuori bilancio siano secondari rispetto alla crisi. Questo è poco ma sicuro, ma è evidente pure che l'ufficio di presidenza sta prendendo tempo, perché crisi e bilancio sono entrambi urgenti, ma non sinonimi, e il prolungamento di una discussione in consiglio farebbe decorrere il termine del 24 febbraio, entro il quale, anche se non perentorio, l'assise dovrebbe sciogliersi per favorire un ritorno alle urne già a maggio.